Un attentato in stile tale banna sconvolto Bogotà con l'esplosione di un'autobomba guidata da un kamikaze davanti alla scuola di polizia della capitale della Colombia. Pesante il bilancio, 21 morti e 68 feriti. L'attacco è stato condannato da tutti, anche dagli ex guerriglieri delle Farc, che si sono costituiti ormai in partito politico dopo gli accordi di pace. Il presidente Ivan Duque ha decretato tre giorni di lutto. È un attacco non solo contro la gioventù, o le organizzazioni pubbliche, o la polizia. È un attacco contro tutta la società. Questo atto terroristico demenziale non resterà impunito. Il kamikaze si è presentato all'ingresso dei visitatori della scuola di polizia Santander, cercando di entrare con un furgone dove c'erano 80 chili di pentolite. Un cane addestrato al rilevamento di esplosivi ha dato l'allarme. Allora l'uomo ha fatto brillare la carica. La polizia ha identificato l'attentatore col nome di José Aldemar Rojas Rodríguez, forse legato a gruppi armati illegali e ancora operativi nell'ambito del narcotraffico.